Sindaco, è una giornata altamente simbolica ma che rappresenta anche un momento, tra virgolette, storico per la sicurezza in questa città, in quest'area metropolitana. Non è una giornata solo simbolica, detto bene, nel senso che abbiamo voluto enfatizzare e abbiamo voluto dare il giusto risalto attraverso una vera e propria cerimonia alla quale partecipa il questore, partecipano i rappresentanti delle forze dell'ordine, abbiamo voluto enfatizzare legittimamente un momento storico per la città di Pescara perché non abbiamo mai avuto la Polizia Municipale armata, questo era uno degli obiettivi che volevamo con forza cogliere con la mia amministrazione e con la mia maggioranza e dopo un atto approvato in Consiglio Comunale anche con i voti della minoranza, qualche mese fa finalmente siamo pronti per questa iniziativa molto importante per quel concetto di percezione della sicurezza che tutti i cittadini devono, tutti i sindaci devono perseguire a favore dei cittadini e quindi è una giornata di quelle da ricordare, una giornata memorabile. Devo ringraziare il comandante Maggitti, tutti gli agenti di Polizia Municipale, le altre forze dell'ordine, devo ringraziare in particolar modo il direttore Giuseppe Volpe della scuola di formazione sul territorio della Polizia che sta anche tenendo dei corsi a favore dei nostri agenti di Polizia Municipale proprio per rendere questo rapporto con l'arma un rapporto efficace, un rapporto professionale, un rapporto di piena consapevolezza di uno strumento importante che renderà anche possibile avere i turni di Polizia Municipale notturni e quindi affiancare la Polizia Municipale, la nostra Polizia Municipale alle altre forze dell'ordine per il controllo del nostro territorio. Da capo dell'amministrazione che cosa si sente di dire a questi vigili che ora gireranno armati? Che i vigili avranno piena consapevolezza del loro ruolo, chi ha un'arma non si deve sentire ovviamente uno sceriffo ma immagino e sono sicuro che i nostri agenti di Polizia Municipale sono contraddistinti da un alto livello di professionalità che stiamo rafforzando ulteriormente proprio con questa iniziativa di formazione presso la scuola di formazione del territorio della Polizia e devo dire loro che hanno anche una grande responsabilità, una responsabilità verso i cittadini ma credo che questa sia la strada giusta, d'altra parte anche altre città, anche più piccole di Pescara ormai da tempo aveva una Polizia Municipale armata, era una grave pecca che non è stata colmata negli anni passati io sono molto soddisfatto che in un anno, anzi Comandante Maggitti è al comando dei nostri uomini da qualche mese, si sia riusciti ad arrivare a questo obiettivo